Ho commesso degli errori, se la società ha pensato questo, il mio primo pensiero adesso va alla squadra, i ragazzi devono fare i calciatori, devono reagire a questo cambio da subito, perché poi la partita è dopo domani, quindi il ramarico è chiaramente quello ed è l'unico, è nel momento di difficoltà dove ti senti responsabile e non poter lottare come ho sempre fatto facendo sport, a cercare di vincere le partite, e di riadrezzare questa situazione. Quattro partite sono davvero poche, quindi dispiace di questo, di non poter lottare per rimediare a quello fatto fino adesso.